Il treno regionale, 11701, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto a Pisa Centrale, delle ore 1.06, è in arrivo al binario 1. Ferma Empoli, San Miniato Fucecchio, San Romano Montopoli Santa Croce, Ponte d'Era Casciana Terme, Cascina, San Frediano a Settimo, Navacchio. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 66, 58, di Trenitalia, proveniente da Pisa Centrale, è diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 4.58, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Signa, Le Piagge, Firenze Rifredi. Il treno regionale, 11703, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto a Livorno Centrale, delle ore 4.59, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Empoli, San Mignato Fucecchio, San Romano Montopoli, Santa Croce, Ponte d'Era Casciana Terme, Cascina, San Frediano a Settimo, Navacchio, Pisa Centrale. Il treno regionale, 11700, di Trenitalia, proveniente da Livorno Centrale, è diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 6.07, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma Signa, Le Piagge, Firenze Rifredi. Il treno regionale, 66, 49, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto a Empoli, delle ore 6.28, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale, 11705, di Trenitalia, proveniente da Firenze Santa Maria Novella, è diretto alla Spezia Centrale, delle ore 6.37, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 23.3.75, di Trenitalia, proveniente dalla Spezia Centrale, è diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 6.42, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Signa, Le Piagge, Firenze-Rifredi. Il treno regionale, 11-7-5-0, di Trenitalia, proveniente da Siena, è diretto a Firenze-Santa Maria Novella, delle ore 6.52, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla ferma a Lastra-Signa, Firenze-Rifredi. Il treno regionale, 11-9-3-2, di Trenitalia, proveniente da Empoli, è diretto a Firenze-Santa Maria Novella, delle ore 7.21, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Signa, Le Piagge, Firenze-Rifredi. Il treno regionale, 23-3-7-4, di Trenitalia, proveniente da Pisa-Aeroporto, è diretto a Firenze-Santa Maria Novella, delle ore 7.51, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Signa, Le Piagge, Firenze-Rifredi. Il treno regionale, 11-7-5-2, di Trenitalia, proveniente da Siena, è diretto a Firenze-Santa Maria Novella, delle ore 7.57, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Signa, Firenze-Rifredi. Il treno regionale, 21-4-0-5, di Trenitalia, proveniente da Firenze-Porta-Alprato, è diretto a Empoli, delle ore 8.44, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale, 21-4-0-4, di Trenitalia, proveniente da Empoli, è diretto a Firenze-Porta-Alprato, delle ore 8.46, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Lastra-Signa, San Donnino-Badia, Le Piagge. Il treno regionale, 11-7-0-9, di Trenitalia, proveniente da Firenze-Santa Maria Novella, è diretto a Pontremoli, delle ore 9.17, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale, 11-7-6-3, di Trenitalia, proveniente da Firenze-Santa Maria Novella, è diretto a Siena, delle ore 11.33, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Empoli, Castelfiorentino, Certaldo, Pogginonsi. Annuncio cancellazione treno. Il treno regionale, 23-8-4-3, di Trenitalia, previsto in arrivo da Pontremoli, è diretto a Firenze-Santa Maria Novella, alle ore 16.38, oggi non è stato effettuato, per rimozione di residuati bellici sulla linea ferroviaria. Ci scusiamo per il disagio. Annuncio cancellazione treno. Annuncio cancellazione treno. Il treno regionale, 30-34, di Trenitalia, previsto in arrivo da Orbetello, è diretto a Firenze-Santa Maria Novella, alle ore 19.28, oggi non è stato effettuato. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale, 11-7-4-4, di Trenitalia, proveniente da Grosseto, è diretto a Firenze-Santa Maria Novella, delle ore 19.28, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Firenze-Rifredi. Il treno regionale, 11-7-3-5, di Trenitalia, proveniente da Firenze-Santa Maria Novella, è diretto a Pisa Aeroporto, delle ore 21.06, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti.